Salve Ma perchè non c'è nessuno? Ma dove sono tutti quanti? Ma? E io cosa sono venuto qua a fare? Chi è? Ma? Pronto? Pronto, buonasera, parlo col mister Stottino? Sì, chi parla? Buonasera mister, sono Mattia della Gazzetta Drittamano Troppo Immagino che si ricorderà di me Mattia Ah, sì, quella dell'esordio che mi ha fatto un'intervista Esatto Sì, ma ascolti, ma dove siete? Perchè qua io sto aspettando La sala è tutta vuota Ma che ne l'attacco? Scusi, sono in piena forma Sono uno sportivo Mica come lei che è lì Seduto con gli occhiali Con il libricino a scrivere Ti ricordi mister, mente sana in corpo è sano Eh sì, mente sana Poi guardi, lasciamo stare Cosa vuole? No, ascolti, volevo fare le domande E fare un giusto l'osservazione Perché vedo che la prossima partita sarà contro la Roma Sì Immagino che non andrà a buon fine la partita Ma come non andrà a buon fine in che senso, scusi? Mister, dai Basta dircelo Ascolti, ascolti, gufo Lei è un gufo, basta eh Che squadra tipa me lo dica adesso Deve essere, deve essere onesta, che squadra tipa Guardi, io dovrei essere in parziale Però, passeggio per l'Inter Eh, non avevo dubbi Non avevo dubbi, guardi Sì, da gufone Vedremo, vedremo Vedremo Dopo, dopo la partita Vedremo l'Inter Ce ne sentiremo che ne partitano, guardi Secondo me Ma lo sa che io questa, questa sua chiamata La potrei benissimo far arrivare al giornale E la faccio licenziare Cioè, ma come si permette di, di darmi queste, queste discriminazioni, scusi? Ma come, mister, semplicemente due parere, eh Del resto non sta facendo, dimostrando che la squadra sta facendo No, abbiamo solo vinto, abbiamo solo vinto una coppa Pre-campionato, il pareggio con la Lazio, ok? Non è, non è stato il massimo, però Ascolti Eh Regalata, mister, regalata Ma ascolti, guarda Le, là, guardi Sa, sa cosa le dico? Lo sa? Le ho attaccato sto gufone di me Ma guardate sto qua, oh Ma pensate Ciao a tutti, stordini Benvenuti nel quinto episodio Della carriera dello stordino Come avete potuto vedere Abbiamo avuto a che fare Con quel cavolo di giornalista Che ci deve sempre rompere le palline Però, lo sapete L'allenatore stordino è sempre pronto Allora, abbiamo affrontato nello scorso episodio Il mercato Diciamo che lo stordino Oggi vuole dedicarsi a fare Un bel po' di partite di campionato Perché se no qua Diciamo che questa serie Non finisce più Detto questo Spostiamoci in game Bene, ci siamo Allora, ragazzi Per prima cosa Vi voglio comunicare Che ho aumentato La difficoltà della CPU Perché Lo stordino è troppo forte Allora, diciamo che ho messo Difficoltà del CPU Leggenda Quindi Sarà veramente dura Infatti ora Da calendario Dovremmo sfidare La Roma in campionato Per la fine del mese di agosto Quindi fine Mese estivo Per poi iniziare appunto a settembre Con Tutte le altre partite Tra cui Vi voglio far vedere Cos'è mo? Le ricordo che i seguenti giocatori Saranno impegnati Con le spese nazionali Chi? Luisa Alberto Donna Roma Chiari E tutti Porca di quella vacca Ok, raga Allora, come potete vedere Abbiamo la Roma Ma Cosa Cosa molto Molto impegnativa È che tra esattamente Guardate un po' Il 18 agosto Avremo il derby Quindi cosa faremo? In questo episodio Fronteremo la Roma Però poi Dall'episodio successivi Diciamo che Simuleremo tutte le partite Tra virgolette Semplici Tra virgolette Per poi arrivare Direi contro L'Inter Secondo me Potrebbe Potrebbe starci Sì Giocheremo poi L'Inter e Napoli Va bene raga Detto questo Possiamo partire a giocare Contro la Roma Siamo pronti Vi ricordo Scrivete sotto nei commenti Sempre Dei consigli di mercato Allora Lo sortino Penso che adesso Per il momento Non dobbiamo fare Nessun movimento In mercato Perché abbiamo poco budget Dobbiamo cercare di vincere Qualche campionato O qualcosa Per poter tirare su dei soldi Perché abbiamo solo 15 migliori Raga andiamo a giocare Questa partita Contro la Roma Ragazzi vi ricordo Che per ora abbiamo comprato Tre giocatori Ansufati Ansufati Luisa Alberto C.O.C. E Topico in difesa E abbiamo venduto Eh Romagnoli Abbiamo venduto Raga Stata una Diciamo Decisione difficile Però Abbiamo bisogno di fondi Raga Con la vendita Di Romagnoli Ci siamo fatti Ci siamo fatti Raga Tre giocatori Eccolo Il nostro Gioiellino Ansufati Raga Lo startino Vi avviso Che punta tanto sui giovani Io ve lo dico Raga Dio In modalità leggenda In leggenda Sarà dura Bravo Hernández Bello Bello 1 2 D'accordo La startina Troppo forte Bellissimo C'è Buono 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 Calcio d'angolo Raga Calcio d'angolo Chiudete Chiudete Easy Dove è il fenomeno Dove è il mio Il mio prodigio Lo vede Lo vede Lo vede Raga Ansufati Attenzione Ansufati Guardate la magia Ansufati Che magia Che mi ha fatto Guardalo Guardalo Che il fenomeno Il fenomeno No Mamma mia Raga Ansufati Bravissimo Dai dai Ansufati 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 Raga Mi sono accorto Che non aveva la webcam Delle manine Aspettate Aspettate Che come gioco Lo dovete vedere Ok ci siamo Porca vacca Raga Ansufati Che pelo Che pelo Che pelo Che pelo Raga ma non mi sembra Tanto leggenda Comunque Cioè si ok Ancora non ho segnato Però Guarda Guarda che ho parlato Oddio Raga Dai raga Dai raga Dai raga Pressing Pressing Bello Mamma mia Slatan La magia No Bello Oh 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 Notiamo sto cartellino Da che contropiede Da che contropiede Regolare Assufati Che sfiga raga Che sfiga Bello Bellissimo Slatan Slatan No Ebere tu Balla Mala Dai Ma non puoi fischiare Va bene Va bene Ragazzi Più veloce Sta palla Fatela girare Un po' più veloce Qua l'Atalanta Vince Le altre quando giocano Stasera Ibra Bellissimo Bello Bello Luisa Alberto Ma vai a cagare Vai Ma vai a cagare Luisa Alberto Bello Dentro per Ibra Ibra per Luisa Alberto Luisa Alberto Oh Calcio di ricore Dai ma non posso Tirare il calcio Da raga Contro il pc E' rosso Manco il fallo No Slatan Slatan Ma voglio cagare Ma come posso segnare la cpu Che so dove mi butto Ma è tutto truccato Raga Buono Che cazzo fa Dentro per Ibra Slatan Ebra 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 Ibra Ibra La putta Grande Slatan 1 a 0 Buono E dai E dai Raga ma secondo voi Devo mettere Il livello estremo Perché comunque Mamma mia Assufati la magia Raga Oh Mi avete consigliato Veramente Mamma mia Assufati Assu La putta 2 a 1 2 a 0 Assufati Chi è che ha segnato Si 3 a 0 Per l'Atalanta Ragazzi Forza Sto pressing Forza Sto pressing Bravo Calabria Bellissimo Bellissimo Luiz Alberto Guarda che tocco Per Ibra Ok Ibra 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 Dentro per Ansu 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 La protezza Ansu E ancora comunque si vede che va allenata Ansu Fatì Ok Raga Finita Dai Fischia Finita Andiamo GG Guardate le mie manine Guardate le mie manine GG Lo stortino Lo stortino batte le mani così GG GG 2 a 0 Raga Andiamo a vedere la classifica Ok L'Atalanta ha vinto 3 a 0 3 a 0 Raga Porca vacca Raga È l'ultimo giorno di mercato Beh dai Comunque tre colpi Le abbiamo fatti Allora Raga Andiamo a vedere un attimo La rosa Castileo Per 27 milioni No no Non ve lo vendo Castileo Mi spiace Comunque io voglio vedere la classifica Ok stagione Ecco qua raga Classifica Dove siamo Siamo 7 a 4 punti L'Atalanta È prima raga È prima 6 vittorie L'Atalanta Dai raga Si scala Si scala Mamma mia Che vittoria Che abbiamo fatto Quanto godo Fammi vedere se Ho ancora il numero Sì Ultima chiamata Quella di questa mattina Eccolo qua Chiamiamolo sto bufone Mattia della gazzetta Dritta Ma non troppo Perderà la partita Tanto So che è una partita Molto difficile Sicuro Sicuro Pronto? Si pronto Mattia della gazzetta Dritta ma non troppo Ho visto Oh buonasera Qui fuori Come andiamo? Molto bene Ho visto comunque Ho avuto tanta fortuna Ma guardi Ha visto il grande calcio Altro che 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 la sua Inter Dai Dai Io ho visto il grande calcio Della Roma Mister Ho visto sempre Una squadra molto impacciata Che per fortuna Ha riuscito a fare Due cose Ascolti Ascolti Per favore Per favore Non Non allarghiamoci Ok Abbiamo dato dimostrazione A tutti quanti Che il Milan C'è E il Milan Si farà sentire Per questo campionato Mister Non andrete avanti molto Vedremo 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 Signor Guffone Vedremo Vedremo Mi sentiremo Sì Arrivederci Arrivederci Ah già Guarda Mi ho già stancato Basta Che cavolo Supporta quel Guffone Vedremo 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 Ciao